La crisi finanziaria della sanità regionale continua a provocare danni e disservizi, soprattutto in provincia di Isernia, dove gli allarmi sono continui. Da quello del 118, che non ha più i soldi neanche per rifornire di carburante le auto a ambulanze, a quello del Carsic, a cui ancora non vengono accreditati i soldi delle rette, per finire con Lucio Pastore, primario del pronto soccorso di Isernia e Venafro, che si è dimesso da quest'ultimo incarico perché non è più in grado di garantire i servizi essenziali a causa delle carenze di personale medico. Insomma, una situazione di default generale, a cui si aggiunge l'ultimo segnale di malessere che arriva da Isernia, dove l'Afasev, la meritoria struttura di assistenza ai disabili, rischia addirittura di chiudere. A dicembre l'Afasev, se non riceverà un aiuto da parte sia della regione che del comune di Isernia, rischierà di chiudere. Una struttura fiore all'occhiello per la città di Isernia, una struttura dove il comune di Isernia è investito, è stato creato il dopo di noi alla struttura Afasev, una struttura che dà la possibilità ai disabili, ai ragazzi già sfortunati di passare la giornata in modo decoroso, quanto possibile. Io sono veramente arrabbiato perché il comune su questo tema deve intervenire. Ho chiesto all'assessore che ha la delega sociale, l'assessore Galasso, di intervenire a più presto perché anche l'ambito che aveva promesso un 20 mila euro alla struttura, ad oggi ha dato soltanto 5 mila euro. Ricordo anche che alla struttura fanno parte, lavorano 15 dipendenti che sono già da mesi che non ricevono lo stipendio, ma grazie a loro la struttura riesce ad andare avanti, la struttura ha bisogno subito di un intervento, anche da parte della regione. Quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione potrebbe essere anche presa immediata da parte del comune di Serna, devolvere il 2% dalle gare pubbliche che il comune va a svolgere, altrimenti una struttura che è destinata a chiudere, una struttura che dà aiuto a queste persone, una struttura che ha avuto dei finanziamenti da parte del comune di Serna per essere ammodernizzata e ingraddita, quindi ha il diritto di essere aiutata subito. Ricordo anche che ci sarà un mercatino che la struttura Afasev fa ogni anno nel vecchio lavatoio e quindi invito i cittadini di Serna ad andarci e lasciare un contributo per far sì che questa struttura riesca ad andare avanti. Sono deluso da questa amministrazione perché mi ha detto il presidente della struttura che praticamente l'anno scorso l'Avasev ha dovuto pagare un affitto di 300 euro per usufruire del vecchio lavatoio. Allora non diamo la sala dell'auditorium gratis a Renzo Alber, diamola a queste persone che ne hanno bisogno. Grazie.